bella a tutti ragazzi e benvenuti al nostro nuovo video contest io sono xyuda e io la finalmente ce l'abbiamo fatta ragazzi è passata una settimana ma finalmente voi non avete mollato noi non abbiamo mollato siamo qua per fare il contest numero 24 24 esatto ragazzi ventiquattresimo contest dove regaleremo questa sera alle ore 22 un bel buono da 10 euro allora dove se lo spendono questo buono come ricarica telefonica benissimo ma che gli altri non le sono portafoglio psn portafoglio credito psn portafoglio xbox oppure nintendo switch tutto quello che dovete fare ragazzi è solo commentare piano commentare questo video una volta sola con la parola che la pami vi dice adesso 60.000 pazzi ok ragazzi 60.000 pazzi vale un commento solo e qua sotto il video non nella live ragazzi mi raccomando ragazzi oltre a questo siate presenti alle 22 all'estrazione in modo da potervi dare subito il vostro premio e il vincitore deve scrivere l'email va bene ma solo al vincitore non tutti noi ragazzi ci vediamo in live ciao 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 ciao